La nuova zona a traffico limitato che circoscrive il centro antico della città è in funzione dal 22 settembre. Un primo bilancio è già possibile. L'assessore al traffico, Anna Donati, valuta gli effetti del dispositivo che sarà messo appunto anche sulla base delle osservazioni e delle proposte dei cittadini. Dopo una settimana possiamo dire che ha funzionato, il provvedimento tiene, i cittadini mediamente naturalmente rispettano il provvedimento. Questo significa che nel centro della città c'è molta più aria pulita e meno auto, ma quello che temavamo, cioè che al contorno lungo Via Foria o lungo Corso Umberto ci fosse il finimondo, non è accaduto. E questo significa che i cittadini hanno compreso il provvedimento e usano di più il trasporto pubblico, anzi abbiamo richieste di potenziare, soprattutto sulle grandi direttrici, il trasporto pubblico. Naturalmente abbiamo anche noi imparato la lezione, siamo andati nel quartiere. La prossima settimana annunceremo i correttivi minimi da fare, locali, alcuni vengono da commercianti, alcuni vengono da residenti. Naturalmente la nostra esigenza è quella di fare non delle correzioni al provvedimento che sta funzionando, ma dei piccoli correttivi locali per rendere meglio, diciamo, fruibile tutti gli spazi. Trovare una sintesi tra tutte queste esigenze che spesso, purtroppo, sono anche apertamente in conflitto tra di loro. Tutti vogliono più spazio, ma lo spazio è limitato e quindi tocca all'amministrazione trovare questa sintesi. Dal 14 ottobre scattano nuove regole anche per le corsie riservate, improntate a un maggior rigore e a una maggiore snellezza, per agevolare lo scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico. Noi abbiamo trovato delle regole dentro l'amministrazione che erano sostanzialmente buone, peccato che poi fossero state costantemente derogate per numerosi soggetti, direi anche troppi privilegiati. Con la nuova regola noi vogliamo destinare esclusivamente trasporto pubblico, taxi, disabili, mezzi di soccorso, naturalmente, forze di polizia. In questo modo, oltre che controllandole, avremo un trasporto pubblico più veloce. Da qualche parte dove vanno e abbiamo cominciato, adesso l'obiettivo è quello di mantenere e aumentare la velocità commerciale degli attuali servizi che offriamo ai cittadini, che in questo momento è veramente ancora troppo, troppo lenta. Quindi io invito tutti i cittadini e le cittadine, in particolare quelli napoletani, ma non solo, a continuare a rispettare il provvedimento, che è una condizione essenziale e un forte aiuto all'amministrazione a veramente far sì che ci si muova tutti quanti molto meglio di prima.